Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede all'Unione Europea di risolvere il conflitto tra Ucraina e Polonia per la libera importazione di prodotti agricoli ucraini. Gli agricoltori polacchi protestano da mesi per quella che considerano una concorrenza sleale e negli ultimi tempi si sono uniti a loro i colleghi dei paesi vicini. Nel settembre scorso la Polonia ha vietato la vendita di alcuni prodotti agricoli di origine ucraina per proteggere il mercato locale, cosa che ha fatto infuriare Kiev. Ma gli agricoltori sostengono che si sta continuando a vendere il grano del paese in guerra danneggiando i loro affari. Bruxelles risponde così. Zelensky ha anche avvertito che Putin potrebbe trarre vantaggio dalla ingiusta politicizzazione del malcontento degli agricoltori polacchi, che per protesta hanno bloccato a più riprese il confine con l'Ucraina, impedendo ai camion di transitare, bruciando pneumatici e spargendo grano ucraino. La Polonia ha sempre appoggiato Kiev durante la guerra ed è il paese che ne ha accolto il maggior numero di rifugiati. Grazie.